Salute world, siamo Anonymous. Salute world, siamo Anonymous. O a non realizzare, perché non è più importante l'opera pubblica in per sé, ma lo ha invece il giro di denaro che vi ruota attorno. Non vi è più differenza tra i capi boss che si riuniscono a cena per decidere come gestire i propri affari, e gli uomini istituzionali che si riuniscono per decidere in che maniera arrogarsi dei privilegi che avranno un costo sulla società. Ormai gli italiani sono costretti non più a pagare delle tasse eque, ma ad elargire il pizzo ad una mafia che si identifica con il tripolore. Distruggete questo messaggio. Distruggete Distruggete